Mobilitare il partito in una stagione così importante per il Paese, questa è l'idea del PD Toscano che ha promosso una serie di incontri in tutta la regione sulle riforme e si prepara alle prossime elezioni. Abbiamo già promosso decine di incontri in tutta la Toscana per due provvedimenti che consideriamo fondamentali per far ripartire la crescita e per far aumentare l'occupazione nel nostro Paese, anche per avere una minore precarietà sul mercato del lavoro e poi ci accingiamo a lanciare la corsa verso le elezioni regionali, innanzitutto preparandoci con uno straordinario coinvolgimento della nostra base alle assise programmatiche del 12 e del 13 dicembre, al termine delle quali voteremo anche per la riconferma di Enrico Rossi come candidato presidente della Giunta regionale per il Partito Democratico. L'obiettivo è arrivare a un programma che sia il più possibile condiviso. Per questo chiameremo in prima battuta a dare suggerimenti agli 850 segretari di circolo che saranno i protagonisti della due giorni del 12 e del 13 dicembre e successivamente il lavoro sarà concluso con un appello alla partecipazione e all'invio di segnalazioni, di proposte, di suggerimenti ai 400.000 elettori delle primarie del PD in Toscana tenute nel dicembre del 2013.